Un fine settimana dedicato alla riscoperta dei beni artistici e storici a Campomarino, due giorni in cui il Borgo Antico si è dipinto di cultura e bellezza. Tanta la presenza in occasione delle giornate FAI, che sono volte alla salvaguardia del patrimonio storico ed artistico, e le temperature miti hanno favorito l'affluenza dei turisti, che si sono concessi una passeggiata per ammirare i dipinti che caratterizzano il Borgo Antico e la cripta della chiesa di Santa Maria Mare, che rappresenta un vero gioiello all'interno della città vecchia. Lo scopo del FAI è proprio quello di cercare questi posti che spesso non sono conosciuti, o spesso sono abbandonati, anche c'è lo spopolamento in molti borghi, e quindi cercarli, ritrovarli e aprirli al pubblico, soprattutto in queste giornate di autunno piuttosto che di primavera del FAI, dove noi usiamo proprio costruire questo format e far vedere il Borgo con occhi nuovi. Abbiamo voluto proprio tracciare un nuovo percorso e insieme alle associazioni, alle persone di cultura e agli storici del posto, abbiamo ragionato per costruire questo nuovo percorso. Il Borgo di Pinto è sicuramente qualcosa di valore, oltre alla bellezza del Borgo stesso, che ogni giorno, ogni mese, ogni anno diventa sempre più bello. La missione del FAI è proprio quello di proporre in queste due giornate a livello nazionale le aperture dei borghi, dei luoghi, dei palazzi, dei musei, delle chiese, proprio per far sì che le persone, i visitatori, che sono tutti i visitatori colti, cui piace visitare il bello, possono soffrire di queste due giornate. Sono degli eventi di caratura nazionale, Campomarino ha questo bellissimo borgo dipinto, abbiamo dato veramente lustro a questo bellissimo posto, al nostro borgo antico, e anche dal punto di vista turistico, vedere molte persone di questo periodo che vengono qui a Campomarino per noi e per tutta l'amministrazione è motivo d'orgoglio. Presente per l'occasione anche l'artista Liliana Corfiati, autrice dei Murales, che vive a Milano e che per l'occasione delle giornate FAI è rientrata nel suo paese natale. I Murales, lungo la passeggiata, si dividono in tre parti, c'è la parte sacra, c'è la parte che poi sono racchiusi tutti nella circonvalazione di Campomarino, si entra da via San Pietro e poi si fa il giro, quindi c'è la parte originaria qui in piazza, con l'arrivo dell'Ialbresch nel 400.